Ben ritrovati a Let's Play di Disney e Hercules qui è Larix Ragomorff e il prossimo livello è La Via dell'eroe. Uno dei vari livelli di corsa che sono presenti nel gioco, io personalmente li detesto. Cerco sempre di farle il più velocemente possibile lasciando anche indietro la roba perché li odio. Ercole! 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 Beh sì scusa Ercole, lo so non è tanto piacevole farsi arrivare sopra la testa un sasso di milletonnellate ma è troppo difficile controllarti. Ercole! 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 Sifilo ogni tanto dice cose a caso che non capisco. Ercole! Mi chiedo quanto ci abbia messo Phil da solo a costruire un percorso del genere. Sì perfetto tutti i salti che ho preso finora li ho sbagliati, tra tutto sta per crepare. Oltretutto ogni tanto ci sono in mezzo alle palle le capre che sembrano delle monete. Bene proprio quello che volevo prendere l'ho mancato, grandioso. Fico, vediamo quanto schifo ho fatto. Beh le lettere ancora ancora, tranne l'ultima che non so dove cacchio era. Suva, non male.